Dopo la vittoria nel primo turno per Marie Le Pen e la nipote potrebbe popilarsi una clamorosa sconvita nel secondo turno delle regionali francesi in programma domenica prossima. Secondo un sondaggio effettuato dal quotidiano francese Le Figaro potrebbe essere messa in evidenza la situazione che nelle tre regioni dove si è votato a favore delle fronte nazionali potrebbe esserci un clamoroso ribaltone frutto dell'accordo tra il centro-sinistra ed i repubblicani di Hollande per fermare l'avanzata del fronte considerato ai molti estremista. Intanto la campagna elettorale si chiude stasera con gli ultimi discorsi poi il silenzio elettorale e da domenica il secondo turno delle regionali che potrebbe essere decisivo.